Una che vuole farti una sorpresa Avanti, ti accompagniamo verso la libertà E come fate? Diciamo che questa prigione è stata costruita da fidatissimi operai della mafia È entrato Oh no, lo volevo dire io Ma che succede? Ho chiamato la prigione e non mi dicono dov'è Homer Mi dispiace Marge, non posso dirtelo Se ti fa stare meglio posso dirti di qualcun altro Uh, crasti nella cella provvisoria di ubriachezza Se gli ebrei controllano i media Perché io non riesco ad andare da Jimmy Kimmel, eh?